Eccoci buonasera, il telegiornale parte e non può essere che così con le notizie su un possibile accordo per il cessate il fuoco dopo la guerra di Gaza, iniziata all'indomani del 7 ottobre quando ci fu il pogrom dei uomini di Hamas in territorio israeliano contro i kibbutz e il rave party. Da allora una guerra sanguinosa che ha fatto praticamente quasi 30 mila vittime per la maggior parte, per la stragrande maggioranza tra Hamas e popolazione civile di Gaza, palestinese di Gaza. Ebbene a Doha, Qatar, il leader di quel paese ha fatto sapere che Hamas ha detto sì, un sì condizionato a una serie appunto di elementi da chiarire alla proposta, alla bozza di cessate il fuoco elaborata proprio dall'autorità del Qatar, dell'Egitto, degli Stati Uniti. Lì c'è anche il segretario di Stato americano Blinken che domani sarà in Israele per convincere le autorità di quel paese ad accettare la bozza di cessate il fuoco. Le prime notizie che arrivano da Doha, dove peraltro c'è anche il numero uno di Hamas, Aniè, e da Washington, dove Biden ha parlato di questo sì di Hamas, ci sono condizioni un po' a limite, oltre il limite, ha detto Biden, ma ci stiamo ragionando. E le reazioni, ci sono anche le prime da Israele, fonti di governo ma non ufficiali, dicono che in realtà il sì di Hamas è un no, perché è condito da condizioni inaccettabili. E' evidentemente il balletto delle dichiarazioni dell'ultimissima ora, bisognerà vedere se Blinken porterà elementi tali da costringere al sì, Netanyahu e il suo governo, per meglio dire gabinetto di guerra. Questa però è la grande novità internazionale che potrebbe portare a un cessate il fuoco al ritorno, perché questi sono gli elementi degli ostaggi in mano a Hamas e alla jihad islamica e la liberazione di centinaia di detenuti palestinesi, tra cui con ogni probabilità Marwan Barghouti, la figura più autorevole della galassia palestinesi nelle carceri israeliane, appunto altri detenuti nelle carceri di Israele. E poi bisognerà vedere se il cessate il fuoco sarà provvisorio o definitivo. In realtà se fosse di lunga durata ci sarebbe il tempo per cementare una tregua finale. Ma ci sono ovviamente tante altre notizie. Von der Leyen annuncia davanti al Parlamento europeo il ritiro delle norme più odiose per gli agricoltori, della rivolta dei trattori, cioè quelle riguardanti i pesticidi. Se ne riparlerà con la prossima commissione, ha detto Von der Leyen, è una vittoria evidentemente del movimento dei trattori, che però non ha concluso la sua azione. E vedremo però anche che c'è un altro tasto dolente per l'Italia, si sa il bacio di ferro sull'industria automobilistica, missione d'urgenza potremmo dire del presidente Stellantis, che è John Elkan, che ha incontrato a Roma varie autorità, dal presidente della Repubblica sino al ministro dell'economia. Vediamo cosa cambierà. C'è la questione del orso, Sonni, come veniva chiamato, abbattuto su ordine del presidente della provincia di Trento, fugati dopo il parere favorevole delle autorità di controllo della zona. Ma ci sono ovviamente proteste molto forti degli ambientalisti e la perplessità forte, per usare un effettivismo del ministro Picchetto Fratin. E poi però c'è tanto altro, le condizioni di Carlo d'Inghilterra, che ha già avuto la visita, è rientrato d'urgenza, questo fa capire le condizioni che potrebbero essere critiche. Del re d'Inghilterra ha ricevuto già la visita del figlio Harry, diceva. Voci di un'abdicazione a favore di William, il primo genito, ma tutto è ovviamente circondato dal massimo riservo. Tanto e tanto altro di cui parlare lo vedrete già tra un minuto dai titoli. Il premio del Qatar annuncia in una conferenza stampa col segretario di Stato americano Blinken Hamas ha detto sì all'accordo con Israele per una tregua prolungata a Gaza e allo scambio tra gli ostaggi e i detenuti palestinesi nei carceri israeliani. Domani Blinken sarà in Israele, da dove però cominciano a filtrare primi giudizi almeno perplessi. C'è un sì, è vero, di Hamas, ma l'organizzazione palestinese avrebbe posto condizioni impossibili. Non cessano per ora i combattimenti. Biden dice che siamo al limite con le proposte di Hamas, ma ci stiamo ragionando. Davanti al Parlamento europeo, riunito a Strasburgo, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen fa marcia indietro. Gli agricoltori vanno ascoltati, dice, e propone il ritiro del piano per dimezzare i pesticidi. È una vittoria anche italiana, dice Giorgia Menoli, di ritorno dal Giappone. Sulla stessa linea è Salvini, ma da parte dell'opposizione si attacca, rivendicano una scelta già bocciata. E c'è l'annuncio di Ischland, un incontro con i leader degli agricoltori, il 16. Il caso Stellantis arriva nei palazzi di Roma. Giornata di impegni per il numero uno, il Presidente del gruppo automobilistico, John Elkan, che ha incontrato Mattarella, Giorgetti, governatore di Banca Italia. Incontri programmati a tempo, si fa sapere da Torino, ma è una coincidenza perlomeno singolare nel tentativo di rassicurare sul futuro dell'azienda in Italia, dopo le parole del capo operativo Tavares su Italia la produzione. E' stato abbattuto in Trentino l'orso Sonni, M90, il suo nome e i codici, che viveva in Val di Sole. La soppressione è decisa dal Presidente della provincia, Fugatti, dopo il parere favorevole dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale. Era considerato pericoloso per l'uomo. Proteste forti delle associazioni animaliste che hanno annunciato manifestazioni e azioni legali. Anche il Ministro Picchetto Frattin dice che ci bisogna trovare altre soluzioni, non può esserci solo quella. Re Carlo ha scelto la strada della trasparenza con i suoi sudditi, oggi è ricomparso in pubblico dopo l'annuncio del tumore. Le telecamere lo hanno ripreso a bordo di un'auto al fianco di Camilla, mentre rientrava a Buckingham Palace da Clarence House, dove aveva incontrato il figlio Harry. Precipitosamente è rientrato dalla California. Carlo è andato in elicotro a Sandringham, qui proseguirà le cure. Iniziano a circolare voci su una possibile abdicazione in favore del primogenito William. Buonasera, molte notizie, ma ovviamente la principale è quella che arriva dalla capitale del Qatar, dove il premier di quel paese, il Tani, accanto al segretario di Stato americano Blinken, ha annunciato che c'è un sì condizionato. Attorno a questo sì si scriveranno fiumi di parole, però c'è un sì di Hamas alla bozza di cessato il fuoco che porrebbe fine, almeno provvisoriamente, alla guerra di Gaza e porterebbe al ritorno degli ostaggi israeliani che si trovano nella striscia, nelle mani di Hamas e della shiad islamica, in cambio della liberazione di una lista ampia di detenuti politici palestinesi nelle carceri israeliane. L'inviata. È stato il viaggio del segretario di Stato americano Anthony Blinken in Medio Oriente a sbloccare lo stallo che si era creato dopo gli incontri di Parigi di dieci giorni fa. Un'ora fa in una conferenza stampa congiunta a Doha con il premier del Qatar, Ahmad Altani, finalmente la notizia che i vertici di Hamas hanno accettato i termini fissati dagli incontri parigini con il capo della CIA Burns, quello del Mossad Barnea, lo stesso Altani, il capo dell'intelligence egiziana. Altani ha detto che la risposta contiene alcuni commenti, ma in generale positiva, ma data la delicatezza delle circostanze non verranno forniti altri dettagli. Anche Blinken si è limitato a dire che c'è ancora lavoro da fare, che anche gli Stati Uniti stanno valutando la risposta di Hamas se ne discuterà domani con il premier Netanyahu all'arrivo in Israele e ha anche insistito che per gli Stati Uniti è essenziale raggiungere l'accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas. Blinken ha tenuto il filo da questa mattina con l'incontro al Qair con il presidente egiziano Al-Sisi, che spinge da sempre per un cessato il fuoco perché la sua frontiera con Gaza è in ebollizione. Proprio Raffa è diventato un obiettivo forte dell'esercito israeliano. Kelia Khan Yunis cerca i sette battaglioni di Hamas ancora da eliminare e soprattutto Yahya Sinwar, il capo militare, uomo in fuga e braccato, secondo il ministro della difesa israeliano Gallant. Si rincorrono le indiscrezioni sulla risposta di Hamas, su quei commenti come li ha chiamati Altani, concorderebbero sul fatto che la liberazione degli ostaggi avverrebbe solo con un cessato il fuoco lungo e duraturo, ma una fonte politica israeliana citata da un canale televisivo ha già fatto sapere che le condizioni poste da Hamas sarebbero inaccettabili. Hamas ha detto sì al quadro dell'accordo, ma ha posto condizioni impossibili. I combattimenti non si fermeranno. Netanyahu ha ripetuto da giorni che si accetterebbe solo il cessato il fuoco più o meno lungo in cambio della liberazione di tutti gli ostaggi e la restituzione dei cadaveri. Dei 132 israeliani, già 32 secondo un ultimo tragico calcolo, sarebbero stati uccisi. Queste le notizie della nostra inviata con cui ci collegheremo nella parte finale del giornale, perché sono ore, davvero, è un luogo comune, ma in questo caso davvero sono ore decisive per imboccare la strada della tregua o quella della prosecuzione della guerra. C'è per fortuna nel cuore dell'Europa, accanto come sapete a una guerra vera, quella che dura da due anni in Ucraina, un altro conflitto, che è un conflitto pacifico ma che ha portato all'occupazione delle principali strade del continente, ovvero la protesta dei trattori, che oggi ha vissuto una giornata chiave, perché anche qui c'è un elemento di tregua lunga, perché è stata la stessa Presidente della Commissione europea ad annunciarlo formalmente. I trattori della protesta circondano il Parlamento europeo a Strasburgo, dove è in corso la plenaria. È qui che oggi Ursula von der Leyen annuncia di voler chiedere al Collegio dei Commissari il ritiro della controversa proposta sui pesticidi, presentata nel 2022 come colonna portante del Green Deal, il piano per la transizione verde, già rigettata dall'Eurocamera e finora senza alcun progresso in Consiglio. È diventato un simbolo di polarizzazione, dobbiamo metterne a punto una nuova piumatura per il futuro, spiega la Presidente della Commissione europea, aprendo così agli agricoltori che, sottolinea, meritano di essere ascoltati. La Commissione proponeva obiettivi giuridicamente vincolanti a livello dell'Unione europea e nazionali per ridurre del 50% l'uso e i rischi dei pesticidi chimici ed eliminare l'utilizzo dei più pericolosi entro il 2030. La nuova proposta di riduzione delle emissioni presentata oggi, meno 90% entro il 2040, glissa però sul ruolo del settore agricolo. A quattro mesi dal voto europeo, la von der Leyen non vuole rischiare il consenso di una parte importante della sua base elettorale. Sarà la prossima Commissione, semmai, a dover tornare sul tema. Sebbene consapevoli della necessità di passare rapidamente ad un modello di produzione più sostenibile e redditizio, gli agricoltori sono preoccupati per il futuro, dice von der Leyen, annunciando incentivi e sussidi ad hoc. Ma per rispondere alla rivoluzione degli agricoltori, in corso in Italia, Francia, Germania, Spagna, Grecia, Romania, Belgio, Polonia, Olanda, negli ultimi giorni, la Commissione europea è andata anche oltre la marcia indietro sui pesticidi. Prima di tutto lo stop al Mercosur. L'intesa di libero scambio tra i 27 e i principali stati sudamericani, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, dà anni al centro di difficili negoziati nel mirino del mondo agricolo che teme l'impatto delle importazioni. La Commissione congela anche l'obbligo di mettere a riposo almeno il 4% delle terre coltivate in cambio degli aiuti comunitari previsti dalla politica agricola comune, PAC. Dal 21 gennaio scorso, l'Unione ha poi disposto il monitoraggio delle importazioni dall'Ucraina, dal grano al pollame, introducendo un meccanismo di salvaguardia rafforzata per sostenere il paese sotto attacco russo. Von der Leyen ha annunciato anche che entro il 26 febbraio, giorno in cui si riunirà il Consiglio Agricoltura, l'esecutivo europeo presenterà alcune proposte per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sul settore. È una vittoria anche italiana, commenta Giorgia Meloni in rientro dal viaggio in Giappone sull'annuncio della Commissione europea del ritiro della proposta legislativa sui pesticidi. La Presidente del Consiglio rivendica l'impegno del suo governo. Fin dal suo insediamento stiamo lavorando in Europa con grande concretezza e buonsenso per tracciare una strada diversa da quella percorsa finora e coniugare produzione agricola, rispetto del lavoro e sostenibilità ambientale. Proseguiremo in questa direzione. Evviva gli agricoltori i cui trattori stanno costringendo l'Europa a rimangiarsi le follie imposte dalle multinazionali e dalla sinistra, condivide il Vice Premier Salvini. Governo che prova ad accontentare anche un'altra richiesta degli agricoltori. L'esenzione del pagamento dell'IRPEF agricola, con intervento da inserire nel decreto mille proroghe, ma solo per i redditi più bassi. Una presa in giro attaccano le opposizioni perché la norma sui pesticidi era già stata bocciata dall'Europa con voto del Parlamento lo scorso novembre e l'esenzione c'era e non è stata prorogata dal governo Meloni. Mi fa ridere vedere Giorgia Meloni rivendicare a sé questa scelta che è stata presa oggi di ritirare una proposta che forse lei non lo sapeva. È stata già bocciata, attacca la segretaria PD Schlein, che annuncia l'incontro il 16 con i rappresentanti di categoria. La segretaria del PD accusa i partiti di centrodestra di aver anche clamorosamente smentito se stessi sulla politica agricola comune, la PAC, che ora bocciano ma che fin qui hanno sostenuto. Giravolta che vale anche sull'IRPEF, spiega Schlein. L'esenzione c'era, il governo non l'ha prorogata e ha tolto il supporto previsto per i giovani agricoltori, insiste. Se il governo farà marcia indietro sull'esenzione ed è ancora tutto da vedere, sarà solo grazie alla battaglia che stiamo portando avanti noi, rilancia da Italia Viva Raffaella Paita. Il governo è fuori dalla realtà, si aggiunge al coro Stefano Patuanelli, capogruppo 5 Stelle in Senato. La Meloni insulta per aver bloccato un regolamento che non era mai entrato in funzione, scrive sui social. Patuanelli che rivendica poi gli interventi a favore degli agricoltori portati avanti dal governo Conte II. A favore della PAC, la politica agricola comune in Europa hanno votato Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e anche il PD. Le parole del Verde Bonelli. Fratelli d'Italia replica le accuse delle opposizioni. La sinistra in Europa sta attuando politiche ecologiste da salotto che non tengono conto della realtà dei fatti. Al momento rimane confermata la protesta degli agricoltori che hanno in programma di entrare a Roma con i trattori tra giovedì e venerdì. L'altra grande protesta sociale, come sapete, riguarda l'industria automobilistica dopo quelle parole così contestate da tutto il mondo politico dell'amministratore delegato di Stellantis, Tavares, che ha detto che senza sussidi, senza aiuti per il passaggio all'elettrico si ridurrà la nostra produzione in Italia. Apriti cielo, come sapete. Tant'è che oggi il Presidente, che rappresenta la minoranza italiana, cioè l'ex Fiat del gruppo John Elkan, è arrivato a Roma. Si dice un viaggio da tempo, una missione da tempo già prevista, una serie di incontri già programmati da mesi. Da Sergio Mattarella al Quirinale, dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ma anche dal Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, dall'Ambasciatore americano Jack Markel, dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzzi. Un lungo giro istituzionale, quello del Presidente di Stellantis, John Elkan, per ribadire l'impegno del gruppo automobilistico in Italia, fare il punto sulle attività industriali, sul tavolo aperto al Ministero delle Imprese del Made in Italy, incontri riservati, programmati da tempo, fatti filtrare dal quartier generale torinese, che riportano alla memoria le intense relazioni politiche e diplomatiche intrattenute dal nonno, l'Avvocato Gianni Agnelli, quando soleva accomunare le sorti della Fiat a quelle del Paese. Quasi un antico rito, provvidenziale, mentre infuria la polemica sull'italianità dell'azienda internazionalizzata, ma destinataria di cospicure risorse pubbliche, pronta a ricorrere a nuovo mese di cassa integrazione per oltre 2.200 dipendenti dello stabilimento di Mirafiori e a esigere nuovi incentivi per le auto elettriche. Missione diplomatica che arriva dopo la smentita dello stesso Elkan, di un piano di fusione con la francese Renault, risposta all'irritazione palesata dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le richieste di incentivi avanzate dall'amministratore delegato Carlo Stavares, che ha anche ventilato il rischio di possibilità negli stabilimenti italiani. Frasi bizzarre alle sue, dovrebbe sapere che gli incentivi non possono essere per una sola azienda, ha tagliato corto da Tokyo la Premier. Mentre il vice Matteo Salvini ricordava che agli italiani l'ex Fiat è già costata parecchio per poi andare all'estero. Mentre ritorna il dibattito sull'opportunità di un intervento diretto dello Stato sul modello francese, anche questo un déjà vu. Come la richiesta di un tavolo ufficialmente avanzata con lettere inviata a Palazzo Chigi, dai sindacati di metalmeccanici, FIM, FIOM e Wilm, per discutere con governo e azienda della situazione degli stabilimenti italiani del gruppo, della rete di fornitura, il cosiddetto indotto, degli impegni futuri, della messa in sicurezza dell'occupazione. Tra le notizie di Cronaca ne spicca una, una serie di arresti che riguardano una brutta storia e c'è anche un cognome ben noto tra quelli degli arrestati. Giri di mazzette, false consulenze e appalti milionari. Dietro l'ultima inchiesta per corruzione e traffico di influenze della Procura di Roma ci sarebbero ancora questi elementi. Un'indagine portata avanti da tempo. Oggi gli arresti domiciliari per i quattro indagati, un ex dirigente pubblico, un avvocato e due imprenditori. Il manager è Gabriele Visco, figlio dell'ex ministro delle finanze Vincenzo Visco, che si è detto molto sorpreso. Domani vedrò l'avvocato e capiremo le accuse, ha detto l'ex ministro di esse. Con Gabriele Visco e i domiciliari sono finiti anche l'avvocato Luca Leone, l'imprenditore Claudio Favellato e Pierluigi Fioretti. Anche lui imprenditore con una lunga militanza politica che l'ha portato in Campidoglio come consigliere comunale per alleanza nazionale. Fioretti è stato presidente Cotral e dirigente nel settore edilizio durante la giunta Le Manno. Gli illeciti contestati sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 2023. Gabriele Visco era, fino ai primi mesi dell'anno passato, dirigente in Vitalia, dopo un lungo periodo in Telecom. Assunto nel 2007 per l'Agenzia Nazionale per lo sviluppo delle imprese, era responsabile per gli investimenti esteri e la programmazione di innovazione e competitività. La società dipende direttamente dal Ministero dell'Economia. Secondo le accuse, tra gli indagati esisteva un sistema di relazioni illecite, diffuso e consolidato, in cui l'ex dirigente pubblico, con la mediazione di un imprenditore, avrebbe favorito a fronte di denaro l'aggiudicazione di un bando di gara di oltre 4 milioni di euro ad una società riconducibile ad un costruttore e tentato di agevolare l'assunzione in una partecipata pubblica di una persona vicina a quest'ultimo. Il manager avrebbe dato anche l'incarico di una consulenza da 230 mila euro ad un avvocato per conto dell'ente in cui era impiegato, ottenendo in cambio parte dei compensi fatturati dal legale per prestazioni mai effettuate. In Vitalia, in una nota, dichiara di essere a disposizione delle autorità inquirenti per fornire tutte le informazioni nei documenti necessari e che valuterà ogni possibile azione per tutelare la propria posizione come parte l'ESA. Nell'ordinanza, il GIP parla di indagati disponibili ad ogni compromesso e scrive che anche dopo il licenziamento da In Vitalia, Visco avrebbe proseguito in condotte illecite. Una situazione davvero grave quella che si configura nell'ordinanza. Vedremo. Adesso parliamo di un'azione che era nell'aria e che era pronta già per altre occasioni a compiere la provincia di Trento. È stato abbattuto l'orso Sonni. Si chiamava M90 Ossonni. Era un orso giovane di due anni e mezzo che viveva in Val di Sole, in Trentino. È stato abbattuto oggi su disposizione del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugati, dopo l'autorizzazione dell'ISPRA, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale. L'ISPRA solo ieri aveva lasciato alla provincia tre soluzioni, la soppressione, la cattura, a cui far seguire uno spostamento radiocontrollato. M90 però aveva già un collare radio. In questo modo è stato individuato l'internamento in una zona recintata. Fugati ha dato subito ordine al corpo forestale di eliminare l'animale perché è considerato pericoloso. Secondo il presidente della provincia, M90 aveva preso eccessiva confidenza con l'uomo e le aree urbanizzate. Più volte, viene spiegato, aveva seguito intenzionalmente le persone. L'ultima, una settimana fa, due escursionisti avevano raccontato di essere stati seguiti per mezzo chilometro da Sonni a Mezzana durante una passeggiata su una strada che porta a una malga. L'orso, anche dopo l'arrivo di alcuni amici della coppia in moto, si era ritirato nel bosco senza aggredire i due. Il comitato, insieme per Andrea Papi, il giovane ucciso la primavera scorsa nei boschi del Monte Peller, sopra Caldès, da un'altra orsa, JJ4, adesso rinchiusa, aveva elencato tutti gli avvistamenti dei plantigradi nelle ultime settimane e aveva chiesto alla provincia un intervento per scongiurare altri incontri uomo-animale. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, ha commentato la notizia dell'abbattimento in questo modo. La soppressione non può essere l'unica alternativa, bisogna moltiplicare gli sforzi per garantire una convivenza pacifica nei territori. Le associazioni animaliste che con un ricorso al TAR erano riuscite ad annullare l'ordine di esecuzione dell'orsa JJ4 protestano contro fugatti, annunciano manifestazioni e azioni legali e reclamano perché, malgrado le sollecitazioni dell'ISPRA, la provincia non ha ancora completato la distribuzione dei cassonetti dei rifiuti anti-orso che dovrebbero impedire l'avvicinamento dei plantigradi nei paesi. Gli orsi in Trentino sono sicuramente più di 100. Alla fine degli anni 90 ne erano rimasti tre, massimo cinque. Erano stati reintrodotti anche dalla provincia col progetto Life Ursus fra il 99 e il 2002 con dieci esemplari importati dalla Slovenia. Si calcola che nel 2022 siano oltre 300 i danni procurati dall'azione degli orsi altrettanti i capi di bestiame predati. Tante volte i giornali e televisioni sono occupati dei reali di Inghilterra per storie che potevano essere rosa o di chiacchiericcio o di gossip è la stessa cosa poi. Qui questa volta come sapete l'attenzione verso Londra è determinata da qualcosa di molto più grave e importante. Se c'è una cosa che un re non può fare è nascondersi troppo a lungo alla vista dei suoi sudditi. Valeva nel passato quando le regine addirittura partorivano davanti ai cortigiani casomai qualcuno mettesse in dubbio la legittimità dell'erede e accade oggi. E così sebbene in maniera fugace ecco le telecamere puntate fisse ormai da ore davanti a Buckingham Palace mostrare l'arrivo del re a bordo di una Bentley nel pomeriggio la regina Camilla seduta al suo fianco. Venivano da Clarence House dove la coppia preferisce abitare dove poco prima era stato ricevuto anche il figlio minore Harry arrivato apposta dalla California. Il tempo di una breve sosta è poi di nuovo via con l'elicottero direzione alla campagna di Sandringham nel Norfolk dove Carlo III ha la sua residenza e dove si era nuovamente mostrato domenica dopo la funzione religiosa anche se contrariamente alle abitudini la gente che di solito accorre per salutare i reali era stata tenuta a distanza e nessuno aveva potuto stringere la mano al sovrano. Del resto anche all'uscita dalla clinica lo scorso 29 gennaio Carlo non aveva esitato a mostrarsi confermando così quella che sembrava una conclusione positiva dell'intervento che aveva dovuto subire alla prostata. Oggi sappiamo che non è così il cancro annunciato dalla Casa Reale ha complicato allarmato rimescolato l'agenda del sovrano. Questa volta al contrario di quanto detto per l'intervento a cui si era sottoposto alla fine di gennaio il comunicato è stato particolarmente privo di dettagli il che ovviamente ha dato l'astura a molte piscillazioni. Qualcuno già insinua persino che Carlo III dopo appena 18 mesi di regno possa abdicare ipotesi al momento abbastanza remota e fantasiosa anche se il Regno Unito potrebbe ormai aver superato lo shock per l'abdicazione di Edoardo VIII per Wally Simpson. Ma tempi maturi o meno per ora Carlo fanno sapere le cronache pensa a curarsi senza rinunciare per questo al trono così lungamente atteso. E torniamo alla notizia d'apertura una notizia importante per molti versi attese. Innanzitutto poco fa il ministro degli esteri italiano Tajani ha twittato si può dire ancora twittato l'abbiamo ormai detto queste parole sostegno convinto al negoziato per la liberazione degli ostaggi per il cessate il fuoco a Gaza e per la definizione di un orizzonte politico che porti alla soluzione due popoli due stati il governo italiano lavora per la pace in Medio Oriente è la cornice internazionale che è anche quella degli Stati Uniti ma vediamo le ultime notizie ci colleghiamo con Tel Aviv la nostra inviata Silvia Brasca sì buongiorno allora quello che Altani va definito i commenti di Hamas la bozza di Parigi sono arrivati in Israele fonti dell'intelligence dicono che sono sotto esame sono commenti dettagliati e su ogni punto di quella bozza però alla fine di questa indiscrezione dicono stiamo valutando se e come andare verso la trattativa ovviamente saranno i dettagli che saranno sul tavolo domani nell'incontro tra Blinken e Netanyahu ma fonti di Hamas ancora hanno detto proprio questa sera che il gruppo è impegnato con la proposta in uno spirito positivo ma chiede un cessato il fuoco globale completo la fine dell'aggressione contro il nostro popolo la garanzia di soccorso e una revoca del blocco della striscia completando lo scambio dei prigionieri questi sono quei punti definiti inaccettabili da Netanyahu e che anche Biden poco fa parlando con i cronisti americani ha detto sì c'è stata la risposta di Hamas ma è andata un po' oltre il limite questo per il momento al momento sono le novità qua da Israele si aspettano ovviamente si aspetta domani domani sarà la giornata risolutiva si è vista come Blinken ha sbloccato la situazione viaggiando dall'Egitto al Qatar al momento però possiamo anche vedere un commento generale della situazione da una voce italiana italo-israeliana autorevole che abbiamo raccolto oggi a Gerusalemme per Sergio della Pergola italo-israeliano professore merito all'università Montescopus di Gerusalemme siamo ancora in un momento interlocutorio della trattativa bisogna aspettare l'incontro di domani tra Blinken e Netanyahu i suoi studi di demografia non si traducono solo in numeri conosce e comprende ogni piega della complessa società israeliana che prima del 7 ottobre era scossa dalla protesta contro il governo di ultradesta di Netanyahu con i riservisti dell'esercito in prima fila l'esercito dopo il 7 ottobre si è arruolato è stato fatto un richiamo alla riserva invece del 100% sono arrivati il 150% dei potenziali arruolati nemmeno un renitente con tutti i discorsi sulla renitenza di cui si era parlato ampiamente nel periodo della discussione delle manifestazioni andiamo indietro al 7 ottobre e analizziamo attentamente quello che è avvenuto e quello che ancora poteva avvenire e poteva essere una vera catastrofe la guerra di Gaza vista da un osservatore attento e consapevole che ha capito che Israele è sempre più isolata e ha perso molto del consenso in Occidente ritengo che il governo Netanyahu faccia un gravissimo errore nel non proporre un piano positivo sul dopo e si limita solamente a proporre gli aspetti negativi cioè non Hamas siamo d'accordo ma anche non uno stato palestinese di un tipo tale o altro e quindi nel non proporre nulla quella parte benevola dell'Occidente che è molto ampia che comincia con il Presidente Biden e vorrebbe quindi anche la collaborazione attiva di Israele nel mettere in piedi un impianto su cui ci sono varie ipotesi io stesso posso darle la mia ipotesi su quale sarebbe la soluzione Nell'attesa dello sblocco della trattativa sugli ostaggi il professore non vede con ottimismo il prossimo futuro e quindi è una situazione di complessiva debolezza da parte delle forze positive e torniamo su questo recalcitrare di Netanyahu che è praticamente schiavo della sua coalizione in cui elementi selvaggi dicono e fanno delle cose assurde controproducenti per Israele e quindi purtroppo a parte il fatto che la situazione militare non è risolta la situazione politica è abbastanza in una palude Sì parole molto importanti e andiamo allora a vedere cosa c'è dopo di noi a otto e mezzo Lily Gruber ospita Luciano Canfora Marco Travaglio e Annalisa Terranova poi di martedì tra i tanti ospiti di Giovanni Floris ci sono Eli Schlein e Nando Pagnolcelli ci fermiamo l'ultima notizia riguarda un incidente di elicottero in cui è morto in Cile l'ex presidente di quel paese latinoamericano Pignera non sono ancora chiare e saranno chiarite evidentemente con le adeguate indagini le motivazioni del fatto che è accaduto del precipitare di questo elicottero un disastro che appunto cancella una figura che è stata chiave nella recente storia del Cile è tutto Gruber Floris ci vediamo domani sera buonasera